Veloce e decisamente insidiosa, ma anche stretta e tortuosa, parliamo della Ha del Diavolo, la prova speciale del Rally Duevalli, l'appuntamento che chiude il campionato italiano Rally. La Casa del Leone ritorna sulle strade che conosce meglio e che l'hanno vista trionfare tante volte negli ultimi anni, e ci torna con la nuova A308, nella sua versione diesel più velenosa, GT da 180 CV e cambio automatico ad 8 marce. E la novità più ghiotta sta proprio nel cambio, che consuma il 7% in meno del vecchio A6 marce, una trasmissione che, accoppiata al motore 2.000 diesel, consente alla media francese di raggiungere i 225 chilometri orari, per uno scatto 0-100 chiuso in 8 secondi e 2. Il divertimento su strada è assicurato, ben gestito e controllato anche da tanta tecnologia. Si parte dal touchscreen di ultima generazione, con tanto di funzione Mirror Screen, per proseguire con un elenco completo di dispositivi di sicurezza e aiuto alla guida. Tra questi abbiamo ad esempio il Dyson Salert, che avvisa il conducente in caso di pericolo di imminente collisione, o l'Active Safety Brake, che interviene frenando il veicolo. L'A308 si conferma quindi una vettura media, che con questa versione può anche regalare qualche emozione in più. Grazie a tutti.